Oroscopo del giorno, domenica 3 novembre 2019 A rete Amore, la vostra situazione sentimentale vi sta molto a cuore e durante la giornata sarete particolarmente inclini ad amare il partner come non avete mai fatto. I single dovranno prepararsi ad una giornata di passione, ci saranno incontri esaltanti. Lavoro, in ambito lavorativo potrebbero esserci delle sorprese, ciò nonostante arriverà anche una delusione a causa di un progetto finito male. Toro, amore, la giornata inizierà sottotono per i nativi del segno, oggi potranno esserci delle tensioni in ambito sentimentale. Cercate di mantenere un alto profilo ed evitate possibili incomprensioni per non aggravare la situazione. Giornata piatta per i single Lavoro, sul posto di lavoro non mancheranno i successi lavorativi, anche se ci saranno tante mansioni da portare a termine. Gemelli, amore, giornata tra alti e bassi per i nativi del segno. Cercate di dedicarvi ai sentimenti, ma si presenteranno tanti ostacoli da affrontare che vi butteranno giù di morale. I single che vogliono osare avranno bisogno del sostegno di qualcuno. Lavoro, per quanto riguarda il lavoro potrete assistere a dei cambiamenti e potrete ottenere dei buoni risultati grazie a nuove collaborazioni. Cancro, amore, oggi sarete seducenti e passionali con il partner. Grazie a venere splendente nel vostro segno. Avrete voglia di trascorrere le ore libere con la vostra dolce metà. I cuori solitari saranno intenti a programmare un piccolo viaggio alla scoperta di nuovi orizzonti. Lavoro, in ambito lavorativo sono in netto miglioramento i rapporti con i colleghi e con chi vi ha fatto arrabbiare. Leone, amore, in ambito sentimentale potrebbe esserci qualche contrasto all'inizio della giornata. Chi non ha ancora superato una delusione dovrà fare di tutto per rimettersi in gioco. Anche i single dovranno fare delle scelte che potrebbero cambiare la vita. Lavoro, sul posto di lavoro potrebbero esserci delle problematiche da affrontare, ma saprete cavarvela. Vergine, amore, anche se non sarà una giornata al top, tuttavia avrete tutte le occasioni propizie per recuperare un rapporto a cui tenete. Dovrete soltanto riuscire a rimediare a degli errori commessi in precedenza. In vista, flirt e avventure per i single. Lavoro, sul posto di lavoro sarà molto dura affrontare determinate mansioni, ma riuscirete a farcela grazie all'aiuto di un collega. Bilancia, amore, la sfera sentimentale riserverà per voi dei dolci momenti con il partner e grazie al passaggio di venere potreste riuscire a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso. Ottimo periodo per i cuori solitari che decideranno di dichiararsi. Lavoro, in ambito lavorativo farete cose che stimoleranno la vostra mente e vi consentiranno di andare avanti. Scorpione, amore, con la luna nel vostro segno oggi sarete particolarmente fortunati e passerete dei bei momenti con la vostra metà. I single potranno approfittare di questa giornata per aprirsi con la persona da cui sono attratti. Lavoro, fruttate questo momento positivo per portarvi avanti con il lavoro e raggiungere i traguardi desiderati. Tagittario, amore, oggi in amore avrete modo di fare diversi progetti che riguarderanno la casa o un matrimonio utili per consolidare il vostro rapporto. Anche per i cuori solitari gli affetti saranno in primo piano e cercheranno di curarli al meglio. Lavoro, se avete delle questioni da risolvere dovrete cercare di affrontarle. Non vi mancherà l'energia per mettervi in vista. Capricorno, amore, vi dovrà fare una scelta in amore oggi vivrà dei momenti molto importanti mentre chi è da solo avrà modo di frequentare persone piacevoli e simpatiche. In entrambi i casi dovrete cercare di essere concilianti e disponibili. Lavoro, l'ambito lavorativo andrà abbastanza bene. Potreste ottenere dei buoni guadagni che non vi dispiaceranno. Acquario, amore, sarà una giornata molto positiva per i nativi del segno. Ci saranno tante novità per quanto riguarda l'ambito sentimentale tanto da passare dei momenti felici in compagnia del vostro partner. Incontri inattesi anche per i single. Lavoro, in ambito lavorativo potreste riuscire a fare del vostro meglio in alcuni settori in cui sfogherete la vostra creatività. Pesci, amore. Oggi alcuni rapporti potrebbero giungere a termine e chi è in coppia potrebbe ritrovarsi da solo. Tuttavia potrebbero anche esserci incontri e decisioni che cambieranno drasticamente le situazioni. Tutto in ballo, non vi resta che scoprire come finirà. Lavoro. Sul posto di lavoro aspettatevi un possibile successo lavorativo. Porterete a termine le vostre mansioni grazie alla vostra intraprendenza. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.